Benvenuti a questa lezione del corso di programmazione in linguaggio C. Questa lezione è dedicata al programma SCITE, se vogliamo pronunciarlo all'italiana, oppure SITE, se vogliamo usare una pronuncia inglese. Anche se, trattandosi di un acronimo, non esiste un modo univoco per pronunciarlo. Noi durante tutto questo videocorso, per evitare confusione, lo pronunceremo all'italiana, e quindi SCITE. Ma ricordatevi che in molti, soprattutto nel settore dell'informatica, preferiscono utilizzare una pronuncia inglese dei termini. SCITE è un editor di testi e come tale ci permette di visualizzare dei file di tipo testo oppure di scriverne di nuovi. Per proseguire questa esercitazione dovete quindi installare questo software sul vostro computer. Si osserva che il software SCITE è stato già installato sul nostro computer e quindi per aprire questo ambiente di lavoro è sufficiente cliccare sulla relativa icona posizionata sul desktop. Si osserva che dopo aver cliccato sull'icona di SCITE viene aperta una finestra con un file di testo completamente vuoto e senza titolo. Su questa finestra possiamo digitare del testo e poi eventualmente possiamo salvarlo selezionando dal menu file l'opzione SAVE. Nel nostro esempio decidiamo di salvare questo nuovo file sul desktop e di chiamarlo prova.txt dove l'estensione .txt indica che si tratta di un file che contiene del testo. Ecco il nostro file prova.txt sul desktop. È evidente che noi non utilizzeremo SCITE per scrivere del testo qualunque. Al contrario utilizzeremo SCITE per scrivere i nostri programmi in linguaggio C oppure per visualizzare programmi già pronti. Tra i programmi in linguaggio C già pronti menzioniamo certamente tutti i codici di esempio a corredo del manuale di questo corso salvati in file con estensione .c E tra questi consideriamo ad esempio i file salvati nella cartella 1.stampare messaggi su video. All'interno di questa cartella possiamo trovare ben 7 file con estensione .c L'estensione .c indica che questi file non contengono del testo qualunque come nel caso del file prova.txt creato in precedenza ma contengono codice scritto in linguaggio C. La prima domanda che ci si pone è come aprire questi file con estensione .c Bene, uno dei modi possibili è proprio quello di impiegare SCITE ed esistono diverse possibilità per aprire un file con estensione .c utilizzando SCITE Abbiamo una prima modalità che consiste nell'aprire SCITE e poi dal menu FILE attraverso l'opzione OPEN si va a selezionare il file con estensione .c che deve essere visualizzato. In genere questa modalità viene adoperata poco poiché richiede diversi passaggi prima di arrivare a visualizzare il file. Una modalità molto più veloce consiste invece nel trascinare sull'icona di SCITE presente sul desktop il file che vogliamo visualizzare con SCITE. Effettuando questa semplice e rapida operazione osserviamo che il nostro file viene correttamente visualizzato. Esiste ancora un'altra possibilità per aprire in maniera semplice e rapida un file con estensione .c utilizzando SCITE. Ci riferiamo alla possibilità di configurare il sistema operativo del nostro computer per associare automaticamente all'estensione .c il programma SCITE. In tal modo ogni volta che si clicca due volte su un file con estensione .c esso verrà automaticamente aperto con SCITE. Vediamo come eseguire questa operazione sul sistema operativo Windows. Ci posizioniamo su uno o qualunque dei file con estensione .c e clicchiamo il tasto destro del mouse selezionando l'opzione Apri con. Successivamente selezioniamo Programma e da qui andiamo a selezionare tra i tanti programmi indicati nella lista il programma di nostro interesse e cioè SCITE. In questo modo stiamo indicando al sistema operativo che SCITE è il programma da utilizzare per aprire automaticamente i file con estensione .c. Questa impostazione non è permanente e se vogliamo renderla tale dobbiamo spuntare l'opzione Usa sempre il programma selezionato. Al termine di questa operazione il file .c selezionato viene automaticamente aperto con SCITE. Verifichiamo ora se l'impostazione è permanente. A tale scopo clicchiamo due volte con il tasto sinistro del mouse su un altro file ed effettivamente osserviamo che questo file viene automaticamente aperto con SCITE. Notiamo che SCITE ha aperto un'altra finestra per visualizzare il contenuto di questo secondo file. Avevamo una prima finestra aperta per un primo file e una seconda finestra aperta per questo secondo file. Questo comportamento non sempre è desiderabile. Ad esempio quando si sta lavorando con numerosi file potrebbe rivelarsi piuttosto scomodo poiché si sarebbe costretti a lavorare con numerose finestre una per ogni file. In questi casi è bene sapere che SCITE permette di aprire tutti i file in un'unica finestra. A tale scopo una volta aperta una finestra di SCITE possiamo caricare tutti i file nella medesima finestra con l'opzione Open dal menu File o molto più comodamente possiamo trascinare nella finestra tutti i file che vogliamo visualizzare. Dall'esempio osserviamo che siamo ora in grado di visualizzare nella medesima finestra sia il file PRG06.C sia il file PRG03.C. Se vogliamo visualizzare tutti i file della nostra directory nella medesima finestra non ci resta che selezionarli tutti assieme e trascinarli nella finestra in questione. Si osserva che al termine di questa operazione abbiamo tante schede. Quanti sono i file che abbiamo trascinato sulla finestra di SCITE? E possiamo spostarci da uno all'altro semplicemente selezionando la scheda corrispondente. Oppure se non vogliamo utilizzare il mouse possiamo utilizzare la combinazione di tasti CTRL-Pagina-SU e CTRL-Pagina-Giù per spostarci da una scheda all'altra. Facciamo notare che SCITE è un editor di testi con numerose funzionalità ed è estremamente flessibile e ci consente di scrivere non solo testi o codici in linguaggio C ma ci permette anche di scrivere del codice in tanti altri linguaggi di programmazione. La lista completa dei linguaggi di programmazione ammessi è disponibile cliccando sul menu Language. Osservando con attenzione i codici visualizzati da SCITE si nota che rispetto a quanto illustrato nel manuale del corso sono assenti i numeri di linea che invece sono molto importanti soprattutto durante la fase di compilazione quando il compilatore segnala eventuali errori o warning indicando proprio i numeri di linea di codice che hanno generato gli errori o le warning. Si intuisce quindi che questa è un'informazione molto preziosa per lo sviluppatore e che non può certamente mancare. Per visualizzare i numeri di linea è sufficiente selezionare l'opzione Line Numbers dal menu View. Osserviamo che con questa operazione i numeri di linea vengono immediatamente visualizzati sulla colonna di sinistra. L'inserimento dei numeri di linea effettuato con questa operazione è temporaneo poiché una volta chiuso SCITE questa impostazione viene persa. Se infatti riapriamo SCITE i numeri di linea non vengono visualizzati e dobbiamo riselezionare l'opzione Line Numbers dal menu View. Per impostare in maniera definitiva la visualizzazione dei numeri di linea dobbiamo agire sul file che gestisce le impostazioni di SCITE. Questo file si chiama Global Options File e si può aprire cliccando l'opzione Open Global Options File dal menu Options. Una volta aperto questo file dobbiamo cercare l'opzione Line Margin Visible questa che risulta disattivata attraverso il carattere cancelletto. Se rimuoviamo il carattere cancelletto questa opzione viene attivata. A questo punto possiamo salvare il file e l'impostazione relativa alla visualizzazione dei numeri di linea viene registrata in maniera permanente. Lo dimostra il fatto che se chiudiamo SCITE e riapriamo un qualunque file con estensione .c i numeri di linea vengono visualizzati automaticamente sulla colonna di sinistra. Bene con questo concludiamo la lezione e vi auguriamo buon lavoro.